Non possiamo permetterci di essere estirpati della nostra possibilità di essere democratici. Non è giusto che ci toghi una libertà di votare il Presidente. Siamo sicuri che nessun cittadino democratico del nostro Paese vuole che la competizione elettorale venga falsata, quindi chiediamo a tutti i cittadini democratici di scendere in piazza. Queste firme hanno trovato dei cavilli per annullarli secondo me, non sono stati imparziali, è un sabotaggio. Ci sono 10 milioni di persone che hanno un diritto al voto, questa è la priorità su tutto e su tutti, quindi per quanto ci riguarda non solo a Milano ma in tutta la Lombardia siamo presenti in queste ore, in questi minuti, perché se la sinistra deve vincere vinca nelle urne e su questo terreno la sfidiamo. Nessuno ci negherà il diritto di andare a votare e di scegliere i nostri rappresentanti. Ora e sempre Roberto Presidente!